Musica Siamo con Lorenzo Radice che è venuto a trovarci nello studio della Nuova Ecologia TV. Lui è il responsabile politiche ambientali del gruppo Ferrovie dello Stato. La presenza del gruppo Ferrovie dello Stato a Città Sostenibile è particolarmente significativa perché le ferrovie sono il primo consumatore in Italia di energia elettrica. Ecco Lorenzo, vuoi spiegare meglio tu perché è importante per voi essere qui nel padiglione di Città Sostenibile? Sì, buongiorno, grazie intanto per l'invito. È importante perché riteniamo che Ferrovie possa avere un ruolo fondamentale nel miglioramento del nostro ambiente e in particolare della mobilità sostenibile. Questo perché le ferrovie consentono dei risparmi energetici e di riduzione delle emissioni di gas serra molto importanti. È vero, siamo il maggior consumatore di energia elettrica in Italia ma se ci paragoniamo al settore dei trasporti il nostro impatto ambientale è molto basso. Il settore dei trasporti in Italia ma anche nel mondo più o meno emette circa il 25% dei gas serra rispetto al totale delle emissioni ma le ferrovie ne mettono solo il 2% di questo 25%. Questo significa che le persone che viaggiano in treno emettono molto a meno in dritte carbonica rispetto alle persone che viaggiano con l'auto privata o in aereo. Quindi è per questo che siamo anche qua a Città Sostenibile, siamo qua a Ecomondo. Per spiegare perché per migliorare l'ambiente in particolare per ridurre le emissioni di gas serra il ruolo della ferrovia è fondamentale. Non riusciremo mai a restare nell'aumento di due gradi che ci si auspica, ci sarà nei prossimi anni per evitare eventi catastrofici. Non si riuscirà mai a rispettare questo obiettivo senza il settore dei trasporti e senza le ferrovie in particolare. Quindi è per questo che siamo qua oggi a Ecomondo. Poi immaginiamo che i passeggeri una volta arrivati in città scendono dal treno e hanno bisogno di spostarsi anche all'interno degli spazi urbani. Voi avete incominciato una serie di partnership per favorire l'intermodalità. Ci racconti qualcosa? Sì, quindi da un lato abbiamo molte attività volte a ridurre l'impatto industriale nel nostro gruppo perché comunque siamo un gruppo industriale, abbiamo degli impatti ambientali ma abbiamo anche delle tecnologie e dei modelli per ridurre questi impatti. Dall'altro dobbiamo consentire ai viaggiatori di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale. Quindi si viaggia da una città all'altra col treno, questa è l'idea. Arrivati in città promuoviamo delle modalità di trasporto integrate rispetto al treno. Per esempio il car sharing abbiamo una partnership con Enjoy, una partnership che si chiama Enjoy con Eni che mette a disposizione dei viaggiatori delle auto in car sharing con le migliori tecnologie e da recenti studi si capisce come ogni auto in car sharing che si mette sul territorio se ne tolgano 15 di private quindi anche questo è un vantaggio ambientale. Altre partnership ancora più virtuose sono quelle per esempio con Clear Channel per il bike sharing. Ci sono postazioni di bike sharing a Verona e a Milano di Clear Channel in partnership con Trenitalia per promuovere la modalità di trasporto forse più virtuosa in assoluto, la bici più il treno. Quindi l'idea si arriva in città senza utilizzare quindi la propria macchina ma col treno e si prende la bici per il cosiddetto ultimo miglio. Come stiamo facendo anche partnership per esempio con Maggiore e Corrent per veicoli elettrici. Quindi si può fare un viaggio virtualmente a emissioni zero prendendo un'auto elettrica per arrivare in stazione a Roma prendere il treno e viaggiare sempre con combustibili a elettricità quindi con una quota di rinnovabili elevata in Italia del 30% arrivare a Milano e prendere un'altra auto elettrica. Quindi avere tutto il viaggio virtualmente a emissioni zero. Partnership di questo tipo ne stiamo facendo sempre di più perché vogliamo proporre soluzioni di viaggio che non siano soltanto il treno ma ti consentono anche di completare il tuo viaggio in maniera sostenibile utilizzando auto in sharing o per esempio bici. Poi lavorate sulla diminuzione dell'impatto ambientale dei vostri processi produttivi delle aziende del vostro gruppo più con la produzione di nuovi convogli. Nel prossimo anno comincerà a circolare sulle rotali italiane il nuovo Frecciarossa 1000 che avrà un impatto ambientale inferiore. Sì, quindi abbiamo anche l'anima industriale ovviamente e quindi in tutte le nostre attività siamo attenti agli impatti ambientali a partire dalla progettazione alla realizzazione con Italfair e RFI alla circolazione dei treni. Dicevi che l'anno prossimo sarà sui binari il nuovo Frecciarossa 1000 TR1000 che è un treno ad alta velocità con caratteristiche ambientali importanti in particolare relativamente all'efficienza energetica essendo più aerodinamico e più leggero ha consumi energetici inferiori rispetto a quelli dell'ETR500 attuale. Tutti i nuovi treni che stiamo mettendo in circolazione hanno un'attenzione particolare al consumo energetico e agli aspetti ambientali quindi sono ambientati maggiormente, utilizzano tecnologia LED e hanno consumi inferiori rispetto a quelli precedenti. Questo quindi ha tutto vantaggio poi dell'ambiente. Grazie a tutti!